Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego come cancellare le cache sull'applicazione EA su Launcher EA dove noi apriamo moltissimi giochi fantastici veramente fantastici ragazzi se riscontrate errori o l'applicazione EA non funziona correttamente può essere anche a causa di queste cache quindi se andate sulle tre lineette in alto a sinistra c'è aiuto, apre i coveri e ragazzi non vi preoccupate, non è che cancellate i vostri dati di salvataggio cancellate solamente le cache di quello che avete fatto fino ad adesso su EA gli aggiornamenti, così facendo potete fare nuovi aggiornamenti più aggiornato poi, l'applicazione è più aggiornato quindi svuotate le cache, lo sto facendo io poi vi chiederà di inserire le vostre credenziali speriamo di no o se la devo inserire le inserisco di nuovo ok non devo inserire nessuna ok collezione è andata a buon fine bene, quindi grazie a tutti per questa visione un piccolo tutorial su come cancellare le cache sull'applicazione EA quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao